Buongiorno, questo video per illustrarvi una operazione di trading che abbiamo appena concluso sul FIB, quindi sul future del mercato italiano, ovviamente un'operazione intraday che è durata addirittura solo nel corso del pomeriggio. Qui davanti abbiamo il grafico a 5 minuti del FIB dove è possibile evidenziare il nostro punto di ingresso avvenuto più o meno a luna alla rotuna di bassista dell'indicatore supertrend sul livello 22.535, lì siamo entrati con una posizione short. Lo stop loss è stato messo sull'indicatore supertrend che è quasi sempre rimasto piatto, orizzontale, il mercato ha lateralizzato per qualche ora ma non ha mai superato l'indicatore supertrend quindi non ha mai fatto scattare il proprio stop loss. Fino a quando verso le 15.30 probabilmente complice un'apertura negativa, fortunosa per noi, apertura negativa della borsa americana, il mercato italiano ha accelerato al ribasso raggiungendo prima la soglia del 22.425, piccolo rimbalzo e poi fino ad appoggiarsi sul supporto del 22.400. Qui il mercato ha lateralizzato per circa 15-20 minuti, 22.400 è un livello storico molto importante, storico inteso come storia recente di questo mercato, quindi un supporto. Ho ritenuto che fosse il target di questa operazione ribassista e quindi sul 22.400 ho chiuso la posizione e credo anche di aver fatto bene perché poi successivamente il mercato è rimbalzato. Quindi un'operazione durata più o meno dalle 13 fino alle 17.30 nel pomeriggio, operazione intraday, operazione short da 22.535 a 22.400, un guadagno di 135 punti che corrisponde ad un controvalore di 675 euro ovviamente lordi. Grazie per l'attenzione e buon trading a tutti.